Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo pronostico FIFA 18, si riparte con le grandi serate europee della Juventus, si riparte con la UEFA Champions League, torniamo ad ascoltare la musichetta da brividi della UEFA Champions League, gruppo H, prima giornata si parte dal Mestaglia Valencia Juventus, inizia l'avventura, inizia il sogno, inizia per la Juventus l'ambizione più grande di questa stagione, la UEFA Champions League, altro non mi resta dirvi se non, fino alla fine vamos Juve e buon divertimento! E quindi fratelli e sorelle ben ritrovati, bentornati, benvenuti al Mestaglia, da qui dalla Spagna, da Valencia, riparte il cammino della Juventus, Road to Madrid, il cammino per la nuova avventura in Champions, per il sogno, per l'ambizione più grande di questa stagione della Juventus, la UEFA Champions League con un giocatore in più, lui, Cristiano Ronaldo, CR7 che si è sbloccato, in campionato finalmente contro il Sassuolo, ora, ora vogliamo che la sua esultanza arrivi anche al Mestaglia, andiamo a vedere la formazione della Juventus, questo intanto è il Valencia, ovviamente ho fatto il mercato anche per il Valencia, quindi rosa aggiornata, per quanto riguarda la Juventus sono rimasti a Torino soltanto Desciglio e Barzagli, io ho ipotizzato la seguente formazione, tenendo presente che Di Bala ha subito un colpo contro il Sassuolo e allora, per quanto riguarda la Juve, ho scelto questo undici in Porta-Scesni, difesa con Cansello, Bonucci, Chiellini e Alexandro, a centrocampo, che dire, Pjanic, Matuidi, il terzetto offensivo, Douglas Costa, Manzukic e Cristiano Ronaldo, questo appunto perché Di Bala ha subito questo colpo, vedremo, sto registrando che sono le 18.38, deve ancora parlare Allegri con Chiellini alle 19 in conferenza stampa, e quindi andiamo, andiamo con il nuovo pronostico FIFA 18, ricordate che tenete presente che per il prossimo sarà FIFA 19 e sarà UEFA Champions League anche su FIFA 19, la palla al Valencia, partiti Gamayro con Dogbia, il tocco in avanti, la palla che viene sporcata da Manzukic, il tocco in profondità per Douglas Costa, subito De Flash, subito De Flash, tocco l'imbucata a cercare Cristiano, vediamo se De Flash, intanto Ronaldo, Ronaldo attenzione, il cross, la palla arriva, viene anticipato, Blaise Matuidi in profondità, palla che finisce direttamente in falo laterale per la Juventus, è pronto CR7, serve il tocco indietro, allora ancora Cristiano che mette in movimento Alexandro, subito Juventus in azione offensiva, Alexandro, la, il cross, la palla che arriva, Neto, di pugno, nostra vecchia conoscenza Neto Murara, è stata la Juve per due stagioni, la palla in profondità, vediamo Gamayro che arriva dall'Atletico Madrid, grande qui l'interdizione da parte di Pjanic, riparta da Juventus, Pjanic porta troppo questo pallone, allora Soler, tocco ancora per Gamayro, non ne riesce ad intervenire Bonucci, Geddes, ora interviene Bonucci, Douglas Costa, il tocco verso Joao Cancelo, grande partita per lui, contro il Sassuolo, Cancelo se ne va, il cross, la palla arriva, ancora Neto in uscita, poi, che dirà, il tocco dentro per Pjanic, ancora Pjanic che poi arriva su questo pallone, mette in, cerca di mettere in movimento Ronaldo, poi Soler spaventato da CR7 alle sue spalle, spazza questo pallone in falo laterale, è pronto Ronaldo, il tocco per Blaise Runner Matuidi, che mette in movimento Alexandro, Alexandro, la corsa di Alexandro, il cross, in bocca a Neto Murara, ma 12 minuti già di marca prettamente Juventina, Geddes, il pallone in profondità, attenzione a Gamayro, Gamayro, attenzione a Gamayro, tocco in area di rigore, Rodrigo, 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 tocco dentro, che cosa si è mangiato pareco, intanto forse c'è un cartellino per Bonny, così è, perché c'è stato un intervento scomposto, c'è stato il vantaggio, eccolo, mamma mia, il Bonny mi entra in maniera un po' scrausa, per così dire, è vero, ripartiamo dal fondo con Shesny, ma abbiamo rischiato tantissimo il tentativo di colpo di testa da parte di Mandzukic, che poi cerca ancora di intervenire, io credo che Douglas partirà dall'inizio, siamo, attenzione adesso ancora, il tocco dentro, chiude Alexandro, poi interviene Chiellini, Pjanic, mi si addormenta, attenzione tocco dentro, Shesny ancora, mamma mia, cos'è stato fischiato, che cosa è stato fischiato, fuori gioco, credo, fuori gioco, Shesny di parte, il tocco laterale per Joao Cancelo, dopo un buon avvio, è un po' uscito il Valencia, adesso però Joao, il tocco per Mandzukic, che mette in movimento Douglas Costa, The Flash, The Flash, mi rientra il tocco dentro, anticipato Blaz Maduidi, e poi Chedira, in qualche modo, ancora Sami, mi lotta Sami, pallone per Gedes, per Kondokbia, vecchia conoscenza, Douglas Costa, se ne va lui, sull'out di destra, The Flash, mette il turbo, viene fermato, fa laterale Juventus, Douglas, il tocco per Joao Cancelo, per Douglas Costa in profondità, cross in area, palo pazzesco di Mandzukic, poi Chedira, attenzione, Chedira, Chedira il destro, palla che finisce altissima, Sami Chedira, sistema gli scarpini, ha provato lui qui, dovrebbe esserci calcio d'angolo, così è, ha deviato Kong Dobia, è pronto, Meralem Pjanic, Pjanic, il cross in area, Mazzokic, Neto, fa suo, codesto pallone, e si accingue, al rinvio, poi, fischia l'arbitro, perché è rimasto, per le terre, Geddes, vediamo, che c'è l'intervento, dei sanitari, si tocca, il ginocchio sinistro, Geddes, problema per lui, al 26esimo, qui ci fanno rivedere, c'è stato questo sandwich, praticamente, gli ha camminato, sopra, Sami Chedira, e allora, c'è il cambio, esce Geddes, ed entra, Mina, mi pare di aver letto, Migna, qualcosa del genere, Neto dovrebbe ridarci, no, ha scodellato, ci ho capito poco, quindi, perché ha fatto scodellare a Neto, che la palla era nostra, mi pare, allora, intanto, Alessandro, tocco in profondità, per Cristiano, Cristiano, per via centrale, Cristiano, attenzione a Cristiano, Cristiano, viene fermato, allora, Soler, per Kong, 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 Dogbia, Cribio, non mi usciva, attenzione, qui ottimo, lo scambio, da parte del Valencia, la chiusura, poi Chiellini, Cristiano, cerca di ripartire, viene spostato da Piccini, neo acquisto del Valencia, il tocco dentro, attenzione, oh, che tiro, da parte di Gameiro, se non vado errato, non so chi, caspita sia, sì, Gameiro, la palla che finisce sul fondo, ma ancora Bribi, per la Juve, 32, 0 a 0, Mandzukic, a cercare Douglas, che viene scavalcato, ancora Soler, buon momento del Valencia, pallone in profondità, per Gameiro, attenzione, pericolo, il tocco, dentro, ancora Gameiro, che tenta il tiro a giro, la palla, che finisce però, altissima, sulla traversa, di Wojciech, che riparte, pallone in profondità, Mandzukic, per Cristiano, il tocco indietro, per Alexandro, Alexandro, che cerca di innescare, il turbo, ma non, va a buon fine, allora, con dobbià, viene fischiato, fallo a Pjanic, Arbitro, un po' di manica larga, Cribio, palla in profondità, interviene Cristiano, poi, cerca di intervenire, Mandzukic, pallone in profondità, Gameiro, tocco dentro, chiude Chiellini, pallone per Blaise Matuidi, riparte la Juventus, azione di rimersa, Blaise, per Cristiano, Cristiano, per Mandzukic, Mandzukic ancora, per Cristiano, che qui viene fermato, Missi addormenta, CR7, allora, Alexandro, si addormenta anche lui, non va in questo momento la Juve, Gameiro, dopo un bel inizio, attenzione Gameiro, tocco indietro, allora, si apre qui, la difesa della Juve, il tiro, Chessny fa ancora suo, questo pallone, Alexandro, Alexandro, qui buona la sua corsa, il tocco per Cristiano, che mette in movimento, Mandzukic, Mandzukic, il tocco per Cristiano, 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 Neto, finalmente, il primo tiro in porta della Juve, lo esplode lui, CR7, che poi cerca di recuperare questo pallone, non ci riesce, Rodrigo, comunque non c'è un attimo di pausa, ottimi ritmi, in questo primo tempo, Matuidi, per Sami, che dira, che dira, lo smarcamento di Cristiano, 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 sul fondo, il sinistro di CR7, sul fondo, il sinistro di CR7, l'avevo vista dentro, porca miseria, porca miseria, mani nei capelli per Cristiano, riparte Neto, riparte il Valencia, il primo tempo, sta per andare a, scemare, a chiudersi, Mandzukic, ancora Mandzukic, tocco dentro, perde flash, che viene anticipato, finisce il primo tempo, 0 a 0, tra Valencia, e Juve, e allora, ragazzi, fratelli e sorelle, brothers and sisters, io, mi gioco subito, un cambio, è vero, perché, perché, vado a togliere, Super Mario, Mandzukic, e butto dentro, la Hoja, subito, così, senza colpo ferire, butto dentro, la Hoja, e andiamo, subito, con il secondo tempo, palla per noi, Cristiano, per Douglas, il tocco, in profondità, e qui, Dybala, che viene spostato, da Mina, allora, il tocco, ancora dentro, Gameiro, ottimo, qui, lavoro da parte di Gameiro, uh, attenzione, il pallone dentro, attenzione, per Icalo, Cesni, Paratona, Cesni, Paratona, mamma mia, grande azione, da parte di Gameiro, è pronto il Valencia, la palla che arriva, Bless, allora, Dybala, che cerca di ripartire, in azione solitaria, Dybala, il tocco, dentro per Bless, Matuidi, 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 dentro, e Soyaki, su, ripartenza letale, della Juve, al minuto numero 50, Bless Matuidi, per Cristiano, e al cinquantesimo, la Juve, passa in vantaggio, rivediamola, l'azione di Dybala, il tocco per Matuidi, che smarca, CR7, per lui, questo è un cioccolatino, che va scartato, e avidamente sbaffato, è vero, è vero, ecco qua, andiamo a rivederci, anche l'esultanza di Cristiano, ammutolito, ammutolito, il popolo del Mestaglia, Cristiano saluta, i suoi, beniamini, bianconeri, e, al cinquantesimo, porta, in vantaggio, la Juventus, Cristiano, sempre in gol, nei miei pronostici, FIFA 18, riparte il Valencia, il tocco per Gameiro, adesso attenzione, perché comunque questa è una squadra che va affrontata con le pinze, attenzione, il tocco dentro, Chiello, qui non c'era un fallo, non viene fischiato, Dybala, di rimessa la Juve, Cristiano, se ne va Cristiano, attenzione, Cristiano che brutto fallo, che brutto fallo, arbitro, questo è arancione, Cribbio, Garai, che brutto fallo, che brutto Fabio, sì perché lui, non può mai prendere quella palla Fabio, dai, guarda che brutto, questo è arancione, fratelli e sorelle, brothers and sisters, intanto c'è un cambio, esce Kong do Bià, entra, Coquelin, 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 calcio d'angolo Juventus, è pronto Mire, è pronto Mire, è pronto Mire, la sventagliata, in area di rigore, anticipato Douglas Costa, mi fa scago, che mi vada Douglas, di testa, adesso attenzione a Chiellini, Chiellini che se ne va, Chiellini, il cross, secondo palo, la Hoja, di Bala Mask, al 56esimo, ma se lo sono perso, in maniera veramente vergognosa, qui la Hoja, l'azione dirompente, la zingarata di Chiellini, di Bala, sul secondo palo, forse di braccio, vediamo, no no, di testa, di testa, di testa, che caspita dici Postman, di Bala Mask, è la Juve, fa 2 a 0, 2 a 0, molto bene, molto bene, magari, magari iniziare con questo risultato, fratelli e sorelle, brothers and sisters, magari, magari, riparte il Valencia, e quindi, ho un po' sofferto, nella metà del primo tempo, è vero, soprattutto per Gameiro, ma poi, di Bala CR7, ancora di Bala, Pjanic, tocco in profondità, che non passa, Chedira, bravo Sami, fagliela vedere, a quel solone, Sami, tocco in profondità, di Bala, adesso la Juve, sul velluto, in questo pronostico, FIFA 18, João Cancelo, il tocco per Chedira, bello questo pallone, dentro per Di Bala, sinistro, alto, che bella azione, che bella azione, ragazzi, il sinistro della Cogia, altissimo, e io adesso, dato che abbiamo passato il sessantesimo, andrei a fare anche, le altre, mie, due, sostituzioni, è vero, allora, siccome abbiamo, ammonito Bonny, facciamo, ben a Tia per Bonny, e poi, buttiamo dentro, Emre e Gian, al posto, di Sami Khedira, e andiamo, con questi ultimi minuti, del nuovo pronostico, FIFA 18, by Poffman, aspettando, con, attesa davvero, trepidante, FIFA 19, con la sua, UEFA Champions League, per ascoltare davvero, la musichetta, della Champions, costa, Blaise, tocco per Alexandro, ha servito ancora Blaise, tocco dentro, per Cristiano, che mette in movimento Blaise, qui, un po' troppo leziosi, in questa azione, poi Piccini, serve pareco, per, Coquelin, 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 attenzione, tocco dentro, per Mina, 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 dentro, uuuh, Alexandro, bella diagonale, e poi spazza via, Alexandro, ma è palla per il Valencia, per il Valencia con Paulista, grande anticipo da parte di Coquelin, che poi si perde il pallone, tocco dentro, attenzione, uuuh, Rodrigo, che cosa si mangia, mamma mia, ancora Valencia, con questa palla, che danza, nell'area, di rigore della Juve, palla alta, di poco, riparte Czesni, ma, siamo 2 a 0, comunque, CR7, tocco indietro, Mire, lateralmente, a servire, Alexandro, ancora Alexandro, tocco a cercare, De Flash, non passa questo pallone, intanto, fuori pareco, nel Valencia, questo, non so chi, caspita sia, aspettiamo dalla grafica, tanto, Alexandro, entra, was, neoacquisto, Blaz Matuidi, tocco, a cercare, Emre e Gian, e poi, il pallone in profondità, di testa, Benatia, però, attenzione, sulla seconda palla, Mina, dietro, per Gameiro, Gameiro, attenzione, il tocco, dentro, Czesni, questa è facile, il pallone in profondità, per Di Bala, caspita fai, la hoja, ottimo la hoja, per Joao Cancelo, tocco in profondità, per Cristiano, cerca di lottare, lì Cristiano, perde il pallone, su Garai, allora riparte il Valencia, con Mina, pallone che viene però, recuperato, da, Pjanic, Emre e Gian, e quindi Pjanic, la scodellata, per Cristiano, non passa questo pallone, 76, Valencia 0, Juve 2, Cristiano Ronaldo, Di Bala, Benatia, il tocco per, Joao, che qui mi si addormenta, interviene Paulista, attenzione pericolo, Paulista, pallone dentro, Czesni, su, Gameiro, o Soler, non so chi, caspita fosse, un pallone che, probabilmente, andava fuori, comunque, bravo Czesni, calcio d'angolo Valencia, attenzione, pericolo, la palla che arriva, Cristiano, la spazza via, Cochlein, Cristiano, come è intervenuto Cristiano, ed era tutto regolare, Douglas Costa, qui, ma che fischi, Crispino, San Crispino, punizione Valencia, attenzione, pericolo, il tiro alto, tiro alto, è pronto Czesni, acceleriamo le operazioni, è vero, la palla in profondità, di testa Cristiano, la sponda pazzesca per Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, secondo palo neto, che bella questa azione, con la sponda di Ronaldo, che innesca Di Bala, gioco ancora a fermo, spezzettato, in continuazione, non so cosa, caspita, ha fischiato, forse fuori gioco, non lo sapremo mai, intanto, attenzione, Chiellini, tocco verso Czesni, 83, Joao Cancelo, per la Hoja, più convinta la Hoja, attenzione per Vaz, attenzione Rodrigo, pericolo, pericolo, Gameiro, Czesni, Gameiro, ah, o meglio, Czesni, a qualche conto, aperto con Gameiro, ancora qui la manona, e la mette in calcio d'angolo, Wojciech, attenzione, il cross, addirittura neto, che era in attacco, addirittura neto, in attacco, si riparte da Czesni, pallone in profondità, ottimo qui, Douglas Costa, che tiene questo pallone, dopo la sponda di CR7, Alexandro, attacco Juventus, la chiudiamo in avanti, Alexandro, la corsa di Alexandro, il cross sul secondo palo, ancora Di Bala di testa, la palla che finisce sul fondo, non è neanche calcio d'angolo, 88 intanto, su cronometro, è pronto neto, a rinvio, ancora a tentare di intervenire Di Bala, palla che finisce fuori, è nostra, la Hoja, chi caspita la dai, Cancelo, tutto regolare, la Hoja, per la corsa ancora di Joao, di Joao, Cancelo, il cross, secondo palo, Douglas, non arriva Ronaldo, arriva Di Bala, porca miseria, era bella anche questa azione, con la sponda di Douglas, allora, qui la chiusura da parte di Alexandro, viene anticipato, Pjanic, caspita, fischiato, fuori gioco, un arbitraggio presentissimo, in questo pronostico FIFA 18, stato Alexandro, il tocco per Blaise, che mette in movimento Pjanic, per Emre e Can, Emre e Can, il destro, ma che gol, ma che gol, ma che gol di Emre e Can, ma che gol di Emre e Can, me lo voglio rivedere, con il replay plurimo FIFA, questo gol pazzesco, di Emre e Can, rivediamocelo, Pjanic, Emre, ma che gol, ma che gol Fabio, Neto, la battezza fuori, prende un'uccellata pazzesca, Emre e Can, e un destro, all'incrocio pazzesco, che gol Fabio, golasso, golasso di Emre e Can, Neto, Murara, sconsolato, che gol, zio cantante, che gol, Emre, che gol, Emre e Can, che gol ragazzi, che finale di FIFA, di pronostico FIFA 18, pazzesco, e finisce qua, e finisce qua, 1-0 a 3, senza possibilità di appello, come sempre, fratelli e sorelle, brothers and sisters, like, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto, ci vediamo domani sera, tardissima notte ovviamente, con il mio video post gara, con la mia consueta live reaction, inizia l'avventura, inizia il sogno, inizia l'ambizione più grande, pronti, per la UEFA Champions League, e come sempre, fino alla fine, vamos Juve, ciao a tutti! Grazie a tutti!